La storia che sto per raccontarvi è veramente incredibile ed esaltante. Difficilmente mi spingo a usare termini come questi, ma davvero questo è un caso eccezionale. In questo video, in questa video-lezione di educazione civica, vi voglio raccontare dell'organismo internazionale dell'UNESCO, quando, come è nato, quali sono i suoi obiettivi, e voi direte fino qui, forse è così tanto entusiasmante, non vi sembrerà, almeno all'inizio. Ma voglio raccontarvi anche di come, a un certo punto, nel 1972, in seguito all'impresa che sto per raccontarvi che ha a che fare con il caso dei templi di Abu Simbel in Egitto, verrà creata appunto la Convenzione del Patrimonio Mondiale, che in qualche modo è qualcosa che davvero ci riguarda tutti da vicino. Allora, vediamo un po' di che cosa devo raccontarvi. Innanzitutto, voglio raccontarvi che cos'è l'UNESCO. UNESCO è un acronimo, l'unione di queste, le lele iniziali di queste parole, ovviamente è una sigla internazionale, vedete, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, o organization, il mio inglese è sempre un po' così. In sostanza, traduciamolo dall'italiano appunto, è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Fino qui vi sembra tutto molto freddo, qualcosa di internazionale, qualcosa di istituzionale. Ma dovete sapere che questa organizzazione internazionale è stata istituita a Parigi nel 1946, pensateci come data, esattamente alla conclusione, pochi mesi dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Già questo vi fa capire, l'idea era proprio quella di poter creare degli accordi internazionali politici ed economici per poter preservare non soltanto le opere d'arte, perché se ve ne parlo io di storia dell'arte, evidentemente per voi è un'organizzazione che tutela l'arte, ma in realtà l'intento di questa organizzazione internazionale era quella di poter costruire una pace duratura. E come si fa a costruire una pace duratura? Diffondendo la cultura, facendoci sentire tutti i fratelli uno dell'altro, facendoci capire che una testimonianza storico-artistica creata in un luogo remoto della Terra in realtà è una testimonianza che ci riguarda tutti da vicino, che fa parte del nostro patrimonio quasi genetico, mi sento di dire, culturale, genetico, internazionale. Quindi l'UNESCO, nata appunto nel novembre del 1946, nata dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni. Educazione, importantissimo che i ragazzi vengano educati alla cultura del rispetto reciproco e del rispetto della storia e della cultura di diversi paesi, la scienza che ovviamente collabora finché tutto questo possa essere portato avanti, la cultura che ovviamente è il fuoco, il cuore di questo progetto, ma soprattutto la collaborazione fra nazioni. Senza questa collaborazione davvero l'UNESCO non avrebbe senso di esistere. Al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. Questa lunga frase che ha a che fare con la descrizione dell'UNESCO vi fa veramente capire che l'UNESCO è una sorta di grande carta costituzionale condivisa tra i paesi che ne fanno parte a oggi, ai dati dell'ottobre del 2020, quindi dell'anno scorso, ma insomma sono questi gli ultimi arrivati, fanno parte dell'UNESCO 194 paesi del mondo. Vuol dire che 194 paesi si sono accordati per lavorare insieme, collaborare per garantire questo rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti che sono alla base di tutto e delle libertà fondamentali, quindi davvero è una carta stupenda, è un accordo stupendo che appunto prescinde dalla diversità dei popoli e appunto non facendo distinzione tra razza, sesso, lingua o religione. E già qui avremmo già finito la lezione di educazione civica perché sarebbe perfetta, ma voglio raccontarvi qualcosa di più. L'UNESCO è nata proprio riflettendo, questa è una frase che viene riportata sul sito ufficiale dell'UNESCO, i governi degli stati membri della presente convenzione in nome dei loro popoli dichiarano che poiché le guerre nascono nella mente degli uomini è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace. È vero, le guerre vengono create purtroppo dalla mente degli uomini e allora occorre diffondere, coltivare la cultura della pace. E come si fa? Si fa diffondendo la cultura in generale, in senso esteso, facendoci sentire parte di un unico progetto. E quindi l'UNESCO si impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale. Quindi, ripeto, non è semplicemente rivolta all'educazione, alla scienza e alla cultura, ma è veramente rivolta a garantire la pace internazionale, la prosperità dei popoli, promuovendo il dialogo interculturale. Quando c'è differenza, il dialogo può arricchire sempre il rispetto dell'ambiente e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile nel perseguimento dei seguenti obiettivi che vado a specificarvi tra un attimo. Anche il rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile ovviamente sono entrati a far parte degli obiettivi dell'UNESCO, visto quello che stiamo vivendo in un momento storico così delicato. Quali sono questi obiettivi in generale? Allora, promuovere l'educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o ragazza abbia accesso a un'istruzione di qualità come diritto umano fondamentale, come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità. Voi forse non pensate che l'educazione è un diritto, ma nel nostro paese in particolare è un privilegio perché l'educazione viene garantita a tutti e ci sono paesi in cui questo ancora non è così scontato. Quindi so che per voi andare a scuola può essere una sorta di forzatura, una fatica. In realtà dovete viverla in modo totalmente opposto. Per voi è una sorta di enorme, meravigliosa opportunità per sviluppare la vostra personalità, per scoprire chi siete, dare forma alla vostra persona, al vostro carattere, costruire, creare il vostro percorso di vita, diventare quelli che siete destinati a essere. In questo senso l'educazione è la chiave di volta dello sviluppo personale e di conseguenza degli stati, se ci pensate. E poi ancora, secondo obiettivo, costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel patrimonio mondiale dell'umanità. Vi parlo tra un attimo di questa lista del patrimonio mondiale dell'umanità, ma voi capite che se noi andiamo a visitare un luogo, io vi parlerò adesso dell'Egitto, e noi ne apprezziamo non semplicemente la bellezza estetica, ma il valore culturale storico che questi patrimoni ci raccontano. Ecco che allora, con questo dialogo interculturale, ovviamente non si tratta soltanto di capire che se siamo in Egitto, quello è un tempio che è dedicato, radicato nella cultura egiziana, ma che la cultura egiziana è parte della cultura di tutti, perché ha dialogato con le culture dei popoli che c'erano intorno e perché la sua antichità l'ha fatta essere alla base dello sviluppo internazionale. Quindi occorre capire che queste testimonianze sono davvero di tutti, rivestono un valore eccezionale per tutta l'umanità. E poi ancora, perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le risorse idriche del pianeta. Questo è un tema molto contemporaneo per quanto riguarda appunto le risorse ambientali e pensate anche quanto la collaborazione internazionale in questo momento sia fondamentale e anche la cooperazione scientifica siano fondamentali per provare ad esempio a mettere un freno allo sviluppo della pandemia, a trovare appunto delle soluzioni che siano di cura o di vaccini. Pensate quanto tutto questo oggi sia davvero così importante. Ultimo punto, ma essenziale, proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana. Ogni uomo ha la libertà di esprimersi ovviamente all'interno di un sistema paese che ha a che fare con la democrazia e lo sviluppo e la tutela della dignità. Non vuol dire poter esprimere la propria opinione andando sopra quella degli altri. Vuol dire che ognuno ha il diritto di diventare se stesso e di esprimersi al di là delle differenze che abbiamo a livello personale, culturale, di razza, di religione, di sesso, eccetera. Quindi vedete che l'UNESCO in sé ha degli obiettivi meravigliosi che tutti quanti noi già così possiamo veramente apprezzare tantissimo. Ma la storia che voglio raccontarvi è eccezionale ed entusiasmante perché in realtà è una storia che riunisce 3000 anni di storia e in particolare voglio raccontarvi il caso dei due templi di Ramses II e della moglie Nefertari che sono stati salvati dal sforzo eccezionale di 113 paesi che avevano aderito all'UNESCO negli anni Sessanta perché cosa è successo? Allora state vedendo in questo momento il tempio di Ramses II l'ingresso del tempio di Ramses II che risale al XIII secolo a.C. Siamo ad Abu Simbel nel sud dell'Egitto e cosa succede? Questo tempio tenete presente che Ramses II o Ramesse II come viene ricordato era nato nel 1303 a.C. e morirà nel 1213 o 1212 a.C. regnerà tra il 1279 e il 1213 o 12 a.C. quindi un regno lunghissimo ma cos'era successo? Allora questo tempio che fa parte quindi della cultura egiziana che noi abbiamo studiato ah tra l'altro ho dimenticato un pezzettino mi fermo un attimo vi parlavo di questo patrimonio mondiale che verrà istituito torno indietro torno qui va bene qui non importa dove parla del patrimonio mondiale vi dicevo che nel 1972 verrà istituito questo World Heritage Convention cioè questa convenzione per la protezione del patrimonio mondiale con l'idea sistematica che ogni testimonianza artistica storica fa parte del patrimonio di tutti del mondo ma questa decisione di istituire questa lista dei beni che fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità creata nel 1972 verrà proprio in seguito all'episodio che sto per raccontarvi cioè appunto il caso eccezionale dei templi di Abu Simbel intanto voglio dirvi che l'Italia è il paese mondiale che custodisce il maggior numero di siti che fanno parte di questa lista del patrimonio mondiale al momento novembre 2021 l'Italia può contare qualcosa come 58 siti che fanno parte di questa lista del patrimonio mondiale è il paese pensate quante piccole lo so che noi ci sentiamo da italiani ci sentiamo al centro del mondo ma non è così provate a guardare la mappa del mondo e guardate quanto è piccola l'Italia ecco nonostante la nostra piccolezza davvero siamo piccolissimi minuscoli nella geografia mondiale l'Italia custodisce il maggior numero di siti inseriti a far parte che fanno parte del patrimonio mondiale in realtà non sono soltanto siti che hanno a che fare con la cultura ma a volte sono siti ambientali o ci sono anche delle liste fanno parte di questa lista anche delle testimonianze trasnazionali o seriali ci sono anche dei beni materiali che fanno parte di questa lista ad esempio le danze le danze popolari per dire ma questo per dirvi insomma per ritornare e raccontarvi dell'importanza ma iniziamo davvero allora a capire il caso dei templi di Abu Simbel cosa era successo facciamo un passo indietro abbiamo detto XIII secolo il momento in cui Ramesses II ha fatto costruire questo sito nella Nubia così si chiamava appunto il territorio dell'Egitto quindi del sud ora nel 1954 il generale Nasser che governava l'Egitto in quel momento decide di dare l'avvio l'ok alla costruzione della diga di Aswan una diga che avrebbe costruito avrebbe determinato la costruzione di un enorme bacino lago artificiale che era necessario per poter far progredire la vita dell'Egitto di quel momento e che avrebbe coperto questo spazio questo lunghissimo territorio appunto dall'Egitto del sud e sarebbe arrivato fino al nord del Sudan ma se questo bacino artificiale era necessario per poter far progredire la cultura avrebbe avuto un effetto collaterale devastante perché questa diga avrebbe portato all'arrivo di enormi quantità di acqua che avrebbero sommerso completamente questi siti archeologici in particolare i siti in cui erano collocati il tempio di Ramses II e della moglie Nefertari voi capite che sarebbe stato un dramma enorme perché il bacino idrico avrebbe coperto in alcuni punti sarebbe stato profondo 90 metri quindi davvero avrebbe sommerso completamente queste testimonianze che sarebbero in sostanza sparite nel nulla cos'è successo nel 1959 a questo punto sia l'Egitto che il Sudan che erano i due paesi coinvolti maggiormente da questa necessaria costruzione della diga per lo sviluppo per il progresso della vita di quegli anni delle popolazioni di quegli anni si rivolgono entrambi all'UNESCO che nel frattempo abbiamo detto era nata nel 46 e all'appello dell'UNESCO rispondono appunto 113 paesi che a questo punto cominciano a elaborare un piano per salvaguardare questi templi è qui che inizia il vero e proprio piano come se fosse davvero un piano internazionale di quel fin d'azione in cui tutti provano a fare del loro meglio e non c'è nessun tipo di differenza interculturale anzi 113 paesi diversi provano a collaborare per mettere a punto un piano per salvare questi tesori che non sono egiziani ma sono tesori del mondo voi capite che in quel momento si era posta una profonda e drammatica scelta preservare la cultura oppure favorire lo sviluppo del paese la modernità antico o presente e futuro ecco la risposta che è arrivata dall'UNESCO e dai paesi che hanno aderito a questa incredibile campagna è stata quella di preservare entrambi la cultura del passato ma anche lo sviluppo per il presente e per il futuro ora parliamo quindi di questo tempio per un attimo lo vedete il tempio di Ramses II appunto che presenta un'altezza della facciata di 33 metri una larghezza di 38 metri e una profondità di 62 metri in particolare vedete nella facciata ci sono queste gigantesche statue di Ramses II che misurano 20 metri circa riconoscete appunto il nostro faraone che indossa l'opscent il classico copricapo da faraone che indossa sia la corona dell'alto che del basso Egitto il nemes appunto e il cobra al centro della testa così come appunto dicevamo appunto la barba posticcia in questa facciata poi compaiono al di sotto o di fianco la madre Tuya la moglie Nefertari e i figli e in cima alla struttura lo vedete in alto in particolare verso i lati in alto compaiono 14 babbuini che guardano verso est come aspettando la nascita del sole vi ricordate che gli egizi non consideravano il giorno come scontato ma ritenevano che ci fosse una sorta di lotta notturna tra le divinità e le forze oscure le forze del male e quindi ogni giorno è raccolto come una specie di grande vittoria che garantiva la conservazione della creazione ora ci sono rimasti questi 14 babbuini che guardano appunto a est aspettando il soggere del sole e le ipotesi sono che prima ce ne fossero 22 come erano 22 le province dell'alto Egitto che in quel momento facevano parte del regno del faraone Ramses oppure addirittura che i babbuini fossero 24 come le ore del giorno a raccontarci di questa nostra canzione temporale meravigliosa che ha un po' del magico se ci pensate della cultura egizia allora cosa succede abbiamo detto che nel 59 c'è questa richiesta di aiuto da parte dei due paesi Egitto e Sudan 113 paesi reagiscono e cominciano a formulare dei progetti per poter salvaguardare questi due siti archeologici qual è la soluzione che propongono prima vengono proposte ipotesi fantasiose avveneristiche siamo negli anni dagli anni 60 in realtà il lavoro verrà portato avanti poi dal 1964 al 68 adesso vi racconto qual è la soluzione adottata ma le soluzioni sono avveneristiche qualcuno aveva proposto di costruire una sorta di grande capsula che potesse proteggere dall'acqua intorno il tempio e che fosse visibile dall'alto con delle piattaforme particolari ma insomma tutto questo avrebbe comunque compromesso il tutto anche perché la struttura del tempio era fatta in pietra calcarea quindi in realtà in arenaria scusate quindi in realtà abbastanza friabile e delicata allora qual è la soluzione che è stata trovata intanto qui vedete non c'è semplicemente la facciata ma il tempio vi faccio vedere la pianta era appunto profondo 62 metri quindi davvero era una struttura scavata all'interno della struttura questi templi rupestri vi ricordate tra le tipologie che vi ho raccontato quindi è un tempio scavato all'interno della roccia davvero questo complicava tantissimo la cosa il piano che viene elaborato è questo vedete che ci sono due templi il tempio grande e il tempio piccolo quello di Ramses e quello di Nefertari e l'ipotesi avveneristica ma meravigliosa che viene messa a punto e realizzata l'impresa incredibile consiste nel decidere di tagliare a a fette come dire il tempio i due templi e di segare la montagna ricostruirne un artificiale 65 metri più in alto e 210 metri più verso l'interno in modo tale che con l'arrivo dell'acqua provocato dalla diga di Aswan i due tempi non sarebbero stati sommersi voi capite che davvero è un progetto che a noi sembra così folle ma l'hanno realizzato questo era appunto il progetto e vedete la ricostruzione della costruzione finale appunto con la facciata e l'interno con questa struttura che voi vedete vi faccio vedere poi dopo come è stata realizzata ecco qui vedete nella parte in basso i due templi a sinistra Ramses a destra Nefertari appunto come erano prima del spostamento ma ne ha dell'incredibile questi tempi sono stati sezionati tagliati scavati dalla roccia e sono stati spostati più in alto e più indietro ed ecco li vedete là in alto in questo modellino che ricostruisce l'impresa ho trovato un po' di foto dell'epoca che vi fanno capire non saranno nell'ordine corretto delle varie fasi perché in cosa è consistito questo lavoro in sostanza sono stati coinvolti tutti i paesi che potevano contribuire nel progetto e nella realizzazione pensate che il progetto finale questo che vi sto raccontando è un progetto che deriva da questi architetti ingegneri archeologi svedesi ma verranno coinvolti per scavare tagliare la roccia in particolare tantissimi escavatori italiani del marme i marmisti di Carrara perché da sempre con nolli gli scavatori della cava di marmo di Carrara avevano esperienza sul taglio della montagna e la montagna tra l'altro era stata tagliata con del filo d'acciaio e delle motoseghe esattamente come si fa per la cava di marmo di Carrara cioè l'idea più semplice sarebbe stata quella di usare l'esplosivo ma avrebbe compromesso tantissimo la struttura a questo punto ci saranno diverse fasi tre fasi in realtà in cui la struttura viene smontata e rimontata nella prima fase viene creata una sorta di protezione una sorta di diga davanti alla stessa struttura per evitare che l'acqua arrivasse perché nel frattempo era stata iniziata la costruzione della diga di Aswan perché era un lavoro necessario per il paese allora viene costruita quest'ulteriore protezione e vengono i templi vengono in qualche modo coperti con della sabbia che dovevano la sabbia doveva proteggere durante la fase appunto di scavo per evitare che si rovinassero si distruggesse il tutto intanto una serie di canali sotterranei servivano a far drenare il tutto dopodiché appunto questa nel frattempo viene costruita una montagna artificiale appunto 210 metri più indietro e 65 metri più in alto e i due templi vengono smontati smantellati tagliati sezionati pezzo per pezzo ovviamente secondo la massima possibile tutela che poteva essere messa in atto i ponteggi tutto quello che poteva essere fatto pensate che per realizzare questa impresa lavoreranno verranno realizzati qualcosa come 5.000 tagli e i pezzi del tempio di Ravs il secondo saranno qualcosa come 1050 tutti questi pezzi con questo pezzo di montagna affettata materialmente 10 km di tagli 9 mesi di lavoro di sega coinvolgeranno più di 2.000 operai ma per fare in modo che tutto questo potesse avvenire pensate che in sostanza sono state create delle vere proprie città nel deserto costruite apposta perché dovevano ospitare le case degli operai le loro famiglie verranno costruiti alberghi addirittura un aeroporto che permetteva appunto l'arrivo internazionale è un ospedale delle attività appunto per accogliere questa comunità che si era creata apposto pensate che meraviglia questa comunità internazionale che non si interessava minimamente della differenza linguistica appunto l'importante era riuscire a partecipare per poter proteggere e salvare questo incredibile tesoro dell'umanità che rischiava di andare perso la seconda fase consisteva quindi nel taglio di questi pezzi nell'affettamento della montagna della costruzione della montagna artificiale tutti questi pezzi venivano poi trasportati in modo lentissimo numerati catalogati archiviati con un codice che doveva codice della posizione originaria che avrebbe permesso di ricostruire i templi in modo rigorosissimo e perfetto a questo punto vedete che verrà costruito per sostenere la struttura all'interno della struttura una sorta di chiamiamola cupola prefabbricata di ferro e di cemento ve la faccio vedere qui mentre ci sono le operazioni di montaggio perché ovviamente questo avrebbe dovuto preservare la struttura tutti intorno sarebbero state riposizionate i massi la pietra le pietre originarie però ovviamente serviva un aiuto come dire moderno per mantenere la struttura guardate che progetto affascinante nel frattempo qui vedete le teste dei faraone del faraone Ramses che erano la parte più come dire più identificativa e che dovevano essere assolutamente preservate qui vedete appunto le varie fasi di lavoro gli operai che lavoravano guardate che interessante vedete anche che le teste verranno rimontate con una sorta di struttura AL che verrà incastonata all'interno dei volti delle teste tagliate proprio per garantire appunto che la struttura avrebbe retto guardate a noi sembra qualcosa di avveneristico tutto questo è successo tra il 1964 e il 68 la conclusione dei lavori avverrà appunto il tutto in ottobre del 1968 anche se poi una serie di altre opere verranno portate avanti in seguito vi sto mostrando queste teste staccate che hanno a che fare proprio con qualcosa di avveneristico meravigliose perché ci mettono ci fanno veramente rivivere l'emozione di quel momento pesavano tantissime tonnellate c'erano dei limiti che erano stati imposti per poter le teste misuravano appunto 20 metri e pesavano 30 tonnellate e occorreva quindi che non si superasse un certo limite certo è che non si poteva neanche tagliarle a metà quindi occorreva veramente è stato uno studio incredibile vi ho inserito a questo punto due dipinti di René Magritte un'artista belga del surrealismo che noi studieremo molto più avanti che però spesso farà uso farà ricorso a queste immagini di queste teste come se fossero separate dal tutto queste scavi queste sessioni per cui mi sono venute in mente ve li ho inseriti così come suggestione lasciamo le perdere però guardate che meraviglia che affascinante no in realtà le teste non sono alte 20 metri era la struttura complessiva però le teste erano veramente molto voluminose guardate appunto le fasi delicatissime del riallestimento per arrivare poi alla conclusione erano state impiegate tutta una serie di stratagemmi tecnici che non vado a raccontarvi però guardate il tempio viene riassemblato vedete qui blocchi scavati tagliati riassemblati insieme davvero qualcosa di avveneristico e meraviglioso l'opera verrà appunto compiuta e l'impresa pone davvero una sorta di grande precedente alla comunità internazionale restava da completare soltanto uno dei misteri che erano legati da sempre al tempio di Ramses II perché in particolare in due giorni dell'anno che sono il 21 di febbraio e il 21 di ottobre la luce del sole entrava all'interno della porta del tempio e illuminava tre delle quattro divinità che erano collocate in fondo al tempio le quattro divinità erano Ptà la divinità che vedete più a sinistra che era la divinità funebre legata all'ombra per cui in realtà la divinità non veniva mai illuminata da questi raggi del sole che penetravano in questi unici due giorni dell'anno e poi c'erano Amon Ra Ramses II lo stesso faraone e Ra le varie divinità faccio vedere un'altra foto in cui tutti e quattro sono illuminati ma in questo caso con la luce artificiale ora restava da vedere se con lo spostamento del tempio 65 metri più in alto e 210 metri più indietro si sarebbe riuscito a preservare questo miracolo della luce che due volte all'anno illuminava le statue è quasi in senso miracolistico a volerli restituire alla loro divinità alla loro origine divina il sole stesso Ra la divinità del sole ora in realtà con lo spostamento che è stato fatto in senso artificiale i due giorni dell'anno vengono preservati ma con un giorno di distanza cioè oggi i due giorni in cui il fenomeno della luce che entra illumina i tre personaggi là in fondo sono spostati di un giorno perché in realtà si sono spostati al 22 di febbraio e al 22 di ottobre poco cambia probabilmente questo ha anche a che fare con lo spostamento che nel frattempo è avvenuto negli anni nei 3280 anni che ci separano dalla costruzione di questi templi quindi in realtà tutto questo ne ha comunque del magico concludo raccontandomi invece qualcosa che di magico forse anche questo un po' di magico ce l'ha ma vi voglio raccontare che nel luglio del 1961 quando abbiamo detto i lavori partiranno tra il 64 e verranno realizzati e finiti nel 68 l'appello internazionale parte nel 1960 allora siccome faceva parte di un dibattito internazionale vi incuriosirà sapere che nel luglio del 1961 usciranno due puntate del fumetto Topolino in cui c'è la storia raccontata di Paperino e il Colosso del Nilo e nei numeri 292 293 del luglio 61 qui ho messo le copertine anche se sono veramente la prima parte la prima immagine dei due fumetti anche se sono a bassa risoluzione ecco in cui gli editori immaginavano esattamente quello che poi verrà realizzato cioè smontare rimontare tagliare i templi per poterli ricostruire è davvero curioso che i creativi di Topolino abbiano veramente anticipato i tempi credendo veramente nel progetto prima ancora che davvero venisse avviato e completato vi lascio con questo suggerimento se volete per andare a vedere le varie fasi anche le immagini di repertorio potete andare a cercare questo trasloco del tempio di Abu Simbel Tomba di Ramses II nella puntata di passaggio a nord ovest con Alberto Angela che ci fa da guida che ci racconta con il suo savoir faire tutta la storia e quindi qui io vi ho messo il frame iniziale potrei far partire il video ma non lo faccio vi suggerisco se siete interessati vi suggerisco di andare a guardare questi 13 minuti di video di questa puntata in cui davvero vedete con tutte le ricostruzioni grafiche vedete davvero come dal progetto iniziale si sia arrivati veramente a questa impresa esaltante lo è esaltante quando soprattutto quando la comunità internazionale supera le differenze per arrivare a lavorare e collaborare insieme per un obiettivo unico per me è assolutamente esaltante